ancora buona domenica buon viaggio da firenze smart e da mauro ciutini veicolo fermo sulla variante di valico tra aglio e firenzuola in direzione di bologna altro veicolo navaria in a11 tra capannori e alto pascio in direzione di firenze prudenza personale su strada per lavori sulla a1 tra roncobilaccio e calenzano in entrambe le direzioni sempre in a1 entrata riaperta per lavori a firenze sud in direzione firenze fino alle 20 di questa sera chiudiamo con i treni un aggiornamento il 94 459 pisa roma termini viaggia con 25 minuti di ritardo è tutto grazie a regione toscana città metropolitana e comune di firenze grazie a tutti